No, in quella stanza non c'è il phon. C'è nella stanza numero 16. Vuoi prendere quella? Non voglio una stanza diversa, voglio un phon. È attaccato al muro, quindi, beh, non si può staccare. Ciao. Sei dell'escursione con la Bia, sì? Grazie al cielo, un'altra persona matura. Pensavo di essere l'unica. Sono un mucchio di giovani con corpi giovani e menti giovani. La buona notizia è che ci siamo noi due, la brutta è che ci siamo noi due. Sono Yug. Sono Helen. Non ho la faccia da Yug. Mio padre si ispirò a Hugh Gaffner. Pensava che sarei diventato una sciuppa femmine. Sveglia! È morto adesso. Hugh Gaffner, non mio padre. Lui è a Calabasas. Beh, vado a cercare il mio letto in questo motel. Stare qui è un'esperienza terribile, credimi. Ok, Lulu, grazie di niente. Non farti sgozzare, Helen. Domani inizia il bello.